sono soltanto io sono io suo il tè è super caldo ok beh senti questa volta ho sentito davvero qualcosa sono io che mi lamento perché ho perso perché perché bene 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 ok mi arrendo l'ho visto e non sono riuscito a fare finta di niente si dobbiamo salvarlo beh visto che è qui vediamo che possiamo fare ti garantisco che non te ne pentirai ciao ragazzi oggi salveremo questo piccolino chissà se ci riusciremo davvero si o meno chiacchiere più azione ha bisogno del nostro aiuto hai ragione ma prima capiamo che dobbiamo farci prima laveremo il suo pelo lo pettineremo e lo vestiremo così tante cose ma come sono emozionato penso che sia la mamma che si è arrotolata per proteggere i piccoli signora signora sei al sicuro puoi srotolarti adesso penso che stia chiedendo aiuto sammy ci servirà dell'acqua tanta anche a loro piace fare il bagnetto presto vi libereremo ragazzi ah guardate ecco un primo orecchio troviamo il secondo eccoci cosa ci sarà dopo dobbiamo fare la foto questa è la faccia della mamma oh guardate quanto è carina ragazzi ti asciugheremo per bene più tardi e sarai come nuova dove sono i piccoli non ne vedo nessuno pazienza sammy penso di vedere qualcosa aspetta ecco la zampa e la seconda sarà qui da qualche parte si guarda tiene in braccio i piccoli con questa zampa giusto ma non possiamo ancora prenderli la mamma li tiene stretti guardate non vuole lasciarli andare così dolce dobbiamo fare un'altra foto si portali più vicino su eccone uno guarda che adorabili orecchie che occhi carini ha un cuore sulla pancia immagino che significhi qualcosa adesso abbiamo tutta la famiglia diamo un'occhiata a che stai pensando sammy si credo che non siano pronti per la foto di famiglia sono bagnati e stanchi si hai ragione dobbiamo mettervi in sesto con chi cominciamo prima li asciughiamo questo li rallegrerà ragazzi chiedete a qualche adulto di aiutarvi il phon è caldo cominciamo con la mamma è la più bagnata ha protetto i suoi piccoli dall'acqua che cosa dove chi è stato non hanno la febbre e non hanno fame quindi di che cosa hanno bisogno sono troppo confuso immagino che manchi loro la mamma o vogliano giocare sammy prova diverse opzioni calma di non piangere papà sam è qui come va sammy abbiamo bisogno di buone notizie sta funzionando devi solo essere fiduciosa e tutto andrà bene non ho mai dubitato di te sammy te la cavi bene coi piccoli anche tu vuoi un abbraccio va bene vieni qui capito questo non funziona proviamo con qualcos'altro adesso mi prendo cura di loro su piccoletti dovete asciugarvi grazie susan è così difficile essere un genitore l'intera famiglia è pulita e asciutta riposatevi adesso ma la missione di salvataggio non è ancora finita allora che abbiamo qui che ne pensi sammy dolcetti no vestiti cosa c'è dimmi sue hai sbagliato prima di tutto ci servirà un pettine speciale color verde acqua con manico ergonomico sì hanno sicuramente bisogno di molte cure e vogliamo provarlo cominciamo con la mamma ragazzi dovete spazzolare con cura tutto il pelo nella direzione in cui cresce guardate come la pelliccia è lucida esattamente ciò che volevamo adesso pettineremo il secondo orecchio fatto sì o dobbiamo pettinare anche le zampe o sono troppo delicati perché no dobbiamo assolutamente farla tutta questa pelliccia e anche qui così ah sei così adorabile sono solo io sta diventando ancora più carina è mai possibile pettiniamo anche la pancia oh ti piace vero bene guardate com'è diventata curata è bellissima prima era soltanto una pallina di pelo ops ma dove sono andati erano qui un secondo fa sono scomparsi la 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 siete così belli tirirì sammy non è carino rubare i piccoli altrui la mamma sarà preoccupata devo solo pettinargli le pance susa mi manca ancora un pochino va bene darò un'occhiata a questo intanto è così adorabile è realizzato con colori molto tenui e c'è anche un ciondolo a forma di cuore wow si è una specie di collana ti starà bene sammy è un accessorio per lei guarda che occhi brillanti che ha adesso oh ma non è soltanto un ciondolo è un posto per le foto beh ce ne servirà una di famiglia si une ho fatte tantissime guarda che mi dici tempismo perfetto sammy ne avremo bisogno ok vado a salvare altri animali sammy oggi dobbiamo aiutare questi animali ragazzi se vi piace questo video dateci un mi piace forse la prossima volta salveremo un'altra famiglia sammy porta qui la foto la metterò nel ciondolo non capisco era qui un attimo fa per bacco siu credo di averla persa non c'è tempo per farsi prendere dal panico era proprio qui vedi la foto di famiglia sarà sempre nel cuore della mamma adesso allora continuiamo la missione di salvataggio non posso più aspettare siu adesso dobbiamo nutrire i gattini oh date un'occhiata a questo simpatico biberon immagino sia giunto il momento di dargli da mangiare puoi farlo sammy e andiamo per la tua mamma per i tuoi fratelli per super sam e io darò da mangiare a te va bene eccoti qui ancora un po' ben fatto piccolo oh ne vuoi un po' anche tu aspetta questa voce suona molto familiare sammy ti ho trovato che razza di scherzo è questo che c'è sono sicuro che anche la mamma abbia bisogno di crescere hai ragione diamo da mangiare anche a lei nom nom allora i cuccioli devono essere lavati, asciugati e nutriti che cosa è rimasto? siu ho già preparato i vestiti guarda ma che bravo sammy gli staranno proprio bene e a giudicare delle dimensioni hai fatto dei vestiti per i piccoli oh che carini siu come facciamo a sapere se sono maschio o femmine? per saperlo dobbiamo scaldare i loro cuori riscaldare i cuori? oh lo so dormi bambino bravo sammy ma non servono a scaldare i cuori allora cosa? bisogna ballare? posso fare il tip tap? dovremmo usare il calore in questo modo e il segreto sarà rivelato oh è una femminuccia è fantastico vero? e l'altro? scaldiamo il tuo cuore scommetto che è una femmina è un maschio la tua intuizione è venuta meno sammy adesso vestiamoti una zampa l'altra zampa questo vestito sta bene con il tuo viso aspetta qui adesso vestiamo tuo fratello siu è così caldo posso averlo? se sei in grado di guardarli negli occhi e dirgli di no allora si sammy sammy? non riesco a sopportare quello sguardo triste se lo può tenere un'altra cosa ho preparato qualcosa per i piccoli non vedo l'ora di vedere forse sono dei colletti sbagliato adesso te lo mostro ti piacerà di sicuro è un certificato di nascita per questa piccola famiglia prometto di dare amore cura e divertimento per tutta la vita a questi cuccioli oh sì prometto che saremo migliori amici per sempre oh che bello siu dobbiamo trovare dei nomi ci ho pensato anch'io è una buona idea ti è venuto in mente qualcosa? questo lo chiamerò joy perché ci porterà solo gioia la seconda si chiamerà hope con la speranza che qui troveranno la seconda casa gioia e speranza che nomi fantastici grazie Sammy non potrei fare a meno di te a proposito quando sono nati dovremmo aggiungere queste informazioni la loro mamma ha detto che sono nati un mese fa e adesso salutiamo la nostra famiglia stupenda e adesso facciamo un paio di foto per l'album di famiglia ma che foto stupende sei bravissimo Sammy questa famiglia adesso vivrà con noi ragazzi e se vi è piaciuto il video dateci un mi piace iscrivetevi al canale e parlatene con i vostri amici ciao 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 ciao